Al castello baronale di Policoro è andato in scena il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna State Comedy Summer Fest. Ottimo riscontro di pubblico e grande successo anche per la versione estiva della manifestazione che ha ospitato famosi stand-up comedian provenienti da tutta Italia. Si lavora già alla prossima edizione. Ben trovati agli spettatori di Policoro TV che ci seguono sempre. Siamo in compagnia di Giuseppe Loduca e Simone Alato, gli organizzatori di questa meravigliosa rassegna State Comedy. Possiamo fare un bilancio che è assolutamente positivo. Dopo l'esperienza invernale anche quella estiva davvero ha centrato l'obiettivo. Sì, diciamo che abbiamo portato un bel po' di gente anche quest'estate in una nuova location che è quella del castello baronale. Possiamo dire che il bilancio è molto positivo anche perché gli artisti comunque erano artisti di un certo livello sia per quanto riguarda la stand-up sia Celenza che non è proprio stand-up però diciamo che è un comico un po' diverso dagli altri. Quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo creato e sicuramente porteremo avanti. Simone, la città di Policoro ha risposto bene quindi proseguirete su questa strada? Sì, assolutamente. Siamo molto contenti di questa risposta positiva che abbiamo avuto sia dai nostri compaesani ma anche da tutte le persone che ci hanno raggiunto dalle diverse città limitrofe e dalle regioni limitrofe. Abbiamo in cantiere e in progetto altre edizioni invernali e estive che non possiamo però ancora svelare e siamo molto felici del gruppo che abbiamo creato perché abbiamo creato una bellissima squadra. Ognuno di noi ha messo le proprie competenze e ha dato il meglio che poteva. Ci stiamo divertendo. Quindi la città di Policoro dovrà essere pronta ad ospitare altri nomi importanti e di alta risonanza come quelli che abbiamo avuto fino a questo momento? Diciamo che abbiamo già contattato i nomi che verranno il prossimo anno. Non sappiamo ancora se è prima di Natale oppure dall'anno nuovo però diciamo che ci stiamo lavorando. Bene, bene. Simone, vogliamo lasciare tutti i nostri spettatori con un saluto augurando una buona serata a te e a tutti gli spettatori del Castello Baronale di Policoro. Sì, assolutamente. Intanto grazie mille per tutta questa fiducia che ci avete dato. Speriamo di non deludere l'aspettativa che abbiamo creato. Abbiamo una grandissima responsabilità e buon divertimento per questa serata. A presto. E grazie a voi.